Il cuore confio di gratitudine vogliamo esprimere il nostro più profondo riconoscimento per tutto quello che ha dato a noi tifosi del Milan con la presenza di Paolo Scaroni, nostro presidente, Giorgio Fornani, nostro CEO, Paolo Martini, direttore dell'area tecnica e Fremi Lekmassani, Sporne Rector, io condividerei con voi le sue cesta un video che raccoglie le immagini di questi anni con noi, per noi, unico, grande, campione tenete le forze nelle vostre mani, riempite in aria i vostri polmoni Italia è la guerra! Italia! Italia! Siamo pronti e accogliere il campo per l'ultima volta con i nostri colori per l'umina sancerò con la maglia numero 11 Zlatan LAFC have just been Zlatan Welcome to Major League Soccer Zlatan 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 Troppo difficile, troppo emozione che mi passa dentro Per voi dirò ci vediamo in giro se siete fortunati Forza Milan e arrivederci Zlatan Zlatan